Lega ad un albero un ragazzo che lo ha ingannato e lo bastona con la complicità della fidanzata. È accaduto a Gallarate. Si tratterebbe di una ritorsione. L'aggressore, 22enne, sarebbe stato per primo raggirato dalla vittima e avrebbe così deciso di vendicarsi. Dopo aver dato appuntamento all'amico traditore nella città dei Due Galli, lo avrebbe trascinato nei boschi di Samarate e insieme alla fidanzata, Cristina Bertevello, una nota fashion blogger seguita sui social da centinaia di follower e ad un amico marocchino, lo avrebbero legato a un tronco e picchiato con calci e pugni. A titolo di risarcimento, il 22enne si sarebbe impossessato del denaro della vittima, 800 euro. Quattro le misure di custodia cautelare emesse dal giudice per due dei giovanissimi sono scattati i domiciliari, per gli altri due l'obbligo di firma. Le perquisizioni, eseguite nelle abitazioni degli indagati, hanno confermato che alla base dell'intera vicenda ci fossero questioni di droga. Trovati infatti 400 grammi di marijuana, oltre alle parti di una pistola Beretta calibro 9, è un ordigno rudimentale con due sacchetti di nitrato di potassio, materiale probabilmente utilizzato per realizzare esplosivi artigianali. L'attività nasce il 14 novembre, la sera del 14 novembre del mese scorso, da un episodio di rapina avvenuto a Somma Lombardo. Emerge un quadro criminale, un quadro delittuoso ben più ampio. L'autore della rapina, probabilmente tutto è avvenuto per debiti, crediti, sostanza stupefacente. Comunque la vittima della rapina poi diventa a sua volta carnefice, perché viene tratta in inganno, viene portata in inganno sul luogo dell'evento da un ragazzo diciottenne. Poi la vittima della rapina decide di vendicarsi nei confronti di questo ragazzo, lo si organizza con la propria fidanzata, con un amico italiano di origini marocchini, anche lui giovanissimo, prelevano questo ragazzo, lo portano, questo diciottenne, lo portano in un bosco di Samarate, lo legano ad un albero, lo picchiano con calci, pugni e bastonate e lo rilasciano solo dopo la cessione di un quantitativo di denaro pari ad 800 euro.